252 nuovi casi in Abruzzo, di cui 148 sono riferiti a Focolai già noti. I test nelle ultime 24 ore sono stati 3.133, di cui quasi il 5% ha dato esito positivo. I nuovi casi riguardano persone d'età compresa tra 3 mesi e 91 anni, 104 nella provincia dell'Aquila, 31 in quella di Chieti, 53 in quella di Pescara e 54 in quella di Teramo, mentre 4 provengono da fuori regione e per 6 sono in corso verifiche per accertarne la residenza. 5 decessi, il bilancio dei morti sale a 500, si tratta di un 71enne e di un 86enne della provincia dell'Aquila, un 88enne e un 82enne della provincia di Chieti e un 66enne della provincia di Teramo. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 3.091, più 246 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti, 212 pazienti, più 2 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 14 meno 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 2.865, più 245 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale alla sanità.